ciao oggi sono qui per augurarti un divero cuore buon natale e lavorerò nella sessione dedicata ai 5 minuti di ASMR 5 minuti per dormire per questo natale happy christmas merry 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 christmas felice felice un felicissimo natale ti auguro di vero cuore spero che tu con questo video di natale dedicato al natale in questi pochi 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 minuti riesca a rilassarti 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 che desideravi da tempo ma se così non fosse ci sarà sempre sempre tempo per poterli ricevere c'è l'una qui fa tremare leggermente la puntazione rilassati cerca di stare sereno quanto più allungo più allungo più allungo possibile tutto andrà bene tutto 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 andrà bene tutto 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 che il tuo sia stato e continua ad essere un Natale sereno ricco, ricco, ricco di speranza e amore nel profondo del tuo cuore soggher soggher grazie per aver scelto questo breve 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 brevissimo video ma lo so tempo lo so tempo di farlo io ti auguro pace io ti auguro pace pace e serenità ovunque tu sia ovunque tu fai con il cuore Buon Natale